Sull'altra velocità abbiamo una serie di cantieri che non c'è mai stata, i tecnici stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi ogni giorno, ho sul telefono tre report, mattina, ora di pranzo e pomeriggio, sul tasso di puntualità che fortunatamente sta migliorando. È chiaro che quando fai tanti cantieri per garantire sicurezza senza bloccare la circolazione, qualche disagio lo causi e lo fai ad agosto perché ad agosto ovviamente ci sono meno pendolari, meno studenti che prendono i treni, quindi piuttosto che fare questi lavori quando ci sono i pendolari, gli studenti e i lavoratori che affollano i regionali e gli intercity, farli concentrare ad agosto il massimo dei cantieri era una cosa che i tecnici hanno ritenuto di fare secondo me in maniera intelligente, la puntualità sta migliorando ieri ad esempio sulla rete dei regionali e degli intercity ha sfiorato al 90%, quindi conto che sia un agosto più tranquillo di quanto non lo sia stato il mese di luglio sia sui treni che sugli aerei.